Novità nell'ambito dell'inchiesta ambiente svenduto, novità soprattutto per Gianni Florido che arrivano dalla procura di Taranto. L'ormai dimissionario presidente della provincia di Taranto può lasciare il carcere e andare agli arresti domiciliari perché si sono affievolite le esigenze cautelari ravvisate nei suoi confronti e cioè la reiterazione dei reati e l'inquinamento delle prove. La richiesta per i domiciliari era stata avanzata a chiusura della scorsa settimana dei legali dell'ex numero 1 di Via Anfiteatro, gli avvocati Carlo e Claudio Petrone, richiesta valutata ed accolta dal giudice per le indagini preliminari di Taranto, Patrizia Todisco. Resta invece in carcere l'ex assessore provinciale all'ambiente Michele Conserva. Nei suoi confronti infatti il quadro complessivo è rimasto sostanzialmente immutato, un quadro fondato sui gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. Questi in sostanza i pareri espressi dai magistrati tarantini nei riguardi delle istanze presentate dai difensori di Florido e di Conserva al termine degli interrogatori di garanzia svolti dal GIP Todisco nei giorni scorsi. Istanze sulle quali sarà lo stesso giudice a decidere dopo l'interrogatorio del segretario generale del comune di Lecce Vincenzo Specchia, ex direttore generale della provincia di Taranto, finito fin da subito agli arresti domiciliari. Specchia sarà interrogato nelle prossime ore a Galatina sempre dal GIP Todisco.